Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video delle Build Battle Oggi sono super cari... Oh mio Dio, bella faccia, che è? Kendal, Kendal, Kendal Che c'è? L'ultimo video È piaciuto a tutti, è piaciuto Ah, e beh, buono, no? È piaciuto a tutti Ha fatto 10.000 mi piace 10.000? 10.000 10.000? Ieeeh Beh, allora anche a questo video direi che li può superare, no? 10.000? 10.000 Quindi, le opzioni sono fuochi d'artificio Clown Un gioco, una spada, oppure un orologio I fuochi d'artificio sai che non mi dispiacciono Ho un'idea, facciamo i fuochi d'artificio Focchi d'artificio Bella faccia, ho un'idea geniale Facciamo due seduti sull'asdraio che guardano i fuochi d'artificio in aria Ok, perfetto Allora, io inizio a cambiare lo sfondo Come sfondo mettiamo, mettiamo, mettiamo In riva al mare Esatto, bravo, bravissimo Questo sfondo com'è? Montagna, il mare Non mi piace Ora lo cambia di nuovo Va bene, inizio a fare l'esdraio Hai capito quale esdraio dobbiamo fare, no? Sì, sì, l'esdraio, quelle lì del mare Bravo, esatto, esatto Mi raccomando, ne devi fare due, eh Dobbiamo essere io e te, dobbiamo essere Vediamo che guardiamo il tramonto Allora, fuochi d'artificio Quindi per i fuochi d'artificio ci serviranno tutti i colori del mondo, no? Devono esplodere Sembra uno sdraio questo qui Fammi vedere Se lo faccio anche di qua Sì, sembra uno sdraio Adesso lo finisco, no? Sì, 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 finiscilo e poi ci fai due personaggi sopra Allora, i fuochi d'artificio Come si possono fare i fuochi d'artificio? Dobbiamo fare ovviamente Tutti i colori Io direi di fare una specie tipo di razzo Prima di tutto Per fare capire che Cosa Sei attento con i razzi No, tranquillo Sono per i colori No, 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 no Guarda qua, faccio tipo così Per fare capire che Questo qua è il nostro razzo del fuoco d'artificio Dobbiamo fare praticamente Quell'effetto Di esplosione del fuoco d'artificio, no? Quindi più o meno così Un po' a vanvera Sì, un po' a vanvera Però allo stesso tempo Magari di diversi colori Ne facciamo più di uno Ecco È bravo, hai capito, hai capito Quindi tutto quanto deve avere un senso Quindi sta esplodendo In questo modo Poi va a salire Così, giusto? Si capisce che è un'esplosione? Sì, si capisce Ok Gli straio sono pronti Gli straio sono pronti? Ok, fai due persone adesso Potevamo fare anche due bambini Che tipo cercavano di far Di lanciare un razzo Eh, che cavolo Vabbè, adesso va bene così Sì, 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 infatti Oh mio Dio Viene una cosa bellissima qui Wow, mi piace Ma non lo fare nudo Per la faccia No, lo faccio nudo Lì avevo un'idea Ah, ok, eh, meno male In mutande Posso farlo in mutande? No, non lo puoi fare in mutande Semmai lo puoi fare col costume Ma in mutande proprio no Perfetto, in mutande no In mutande no Con il costume, ecco Blu Ti piace il costume blu? Con la panza Guarda, sei la panza Ehi Con la panza che ti Ma come? Ah, questo sono io Stravacchiato Ti potremmo mettere anche tipo un bicchiere in mano Sto bevendo un po' di Coca-Cola Ok, questo è il suo bicchiere Perfetto Lo chiudiamo così Mi piace Oh mio Dio Ma la faccia è bellissimo È bellissimo Ovvio che è bello L'ho fatto io Sì, in effetti hai fatto quasi tutto tu Allora, abbiamo due minuti di tempo Datti una mossa Ci siamo dati il cambio ragazzi Perché io non sapevo più come continuare Per quanto riguarda i futili artifici Muoviti, muoviti Fai con le persone Sta tranquillo, sta tranquillo Dorme, non piglia pesci Io non voglio pesci Ok, guarda Allora, quindi l'hai fatto così Così Poi l'hai fatto così Tutto stravaccato Molto bene Gli dobbiamo fare il costumino pure a lui Poi qua Le braccia Partiziella Ecco qua Ecco così Ok Ok, sta venendo fuori Sì, sì, sì A lui A te ti faccio un costumino giallo Bella faccia No, verde No, te lo faccio giallo Mi dispiace No, vero Eh, no, no, no Non c'era il verde Era finito al supermercato Poi Gli occhi strabici Fammi vedere Oh Sì che mi piacciono Bravo Questo è proprio Che va su Ok, ma quindi questi siamo io e te Sì Quanto tempo abbiamo? 59 secondi Un minuto Ok Mi devo dare una mossa Mi devo dare una mossa Ma che faccione c'ha questo? Poi prendiamo le slab Dobbiamo essere veloci Ma la faccio No Ho cambiato il gioco in italiano È vero Ok, così Guarda Gli facciamo una bocca Così Poi così Ok Ok Cavolo Ok, allora Ora vetro Ti faccio un bicchiere pure a te Lo vuoi un bicchiere? Lo faccio blu Sì, veloce, veloce Il bicchiere blu lo vuoi? Sì, veloce, veloce Ok, guarda, 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 guarda Ci penso io Bicchiere blu per bella faccia Ok, siamo pelati Ma non importa Siamo vecchi Siamo diventati vecchi Ecco, Kendall e bella faccia Che guardano i fuochi d'artificio In spiaggia Eh? Cominciamo questa volta È geniale come costruzione Secondo me è la migliore di tutte No, ma questo Non è nulla di che Sì, ha messo semplicemente le particelle Pup, pup Oh, questo ha fatto proprio il razzo Il fuoco d'artificio E ha fatto anche la miccia Che si sta accendendo, vedi? Good Good Good, good Questo è stato molto, molto bravo Questo molto, molto Molto, molto Non si è impegnato Molto, molto lol Molto lol Non si è proprio impegnato No, pup, mi dispiace Noi se non altro Ogni volta cerchiamo, ragazzi Un'idea diversa Non vogliamo fare Un semplice Un semplice Razzetto Ma cos'è? La tana di Babbo Natale Un razzo dentro la neve Vabbè Un ok Dai Un ok Qui? Visto Tutti stanno facendo il razzetto È piccolino Invece abbiamo fatto Due Due scemi che si guardano i pochi di attività in spiaggia Questo con l'azzarino Oh, bello L'idea dell'azzarino è geniale Good Però sta bruciando Oh, sta bruciando Oh, chiamate i pompieri Chiamate i pompieri subito Oh, anche lui ha fatto tutte le particelle che esplodevano Bello comunque questo Questo è un bel good Se lo merita Anzi, forse anche un epico Wow Oh, ecco il nostro Guardate Guardate lui che espressione che c'ha Eh, questa è bella Questi sono bellissimi Secondo me piacciono a tutti Eh, ok Questa sembra più tipo una navicella spaziale Un carino, nulla di che Un ok Terzo posto Terzo Per due Ce lo siamo meritati però Siamo stati bravi Wow, questo è bello Eh, questo era bellissimo Guarda che colori fantastici Una spugna Un piatto Un ragno Una patata Oh, facciamo Spider-Man 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 Fantastico Ok, come possiamo fare Spider-Man Per fare Spider-Man ci servono dei grattacieli 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 Li potrei fare io i grattacieli Qua però un bel ragnetto Tipo davanti la porta Ci sarebbe molto, eh Oh, è vero Con questa ambientazione No, 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 no Niente ambientazione Dobbiamo mettere Facciamo i grattacieli Quindi potremmo fare Uno Spider-Man Con le gambe Tipo piegate Uno Spider-Man pensionato Perché uno Spider-Man pensionato Ve la faccio? Che non ha più voglia di far dinte Ma cosa dici? Spider-Man sarà sempre Il supereroe dei supereroi Avrà sempre voglia di salvare la città Hai capito? Sono troppo vecchio per queste cose No, no, non penso proprio Spider-Man non può invecchiare È scritto proprio nel libro degli Spider-Man Lo sapevi? Allora, per adesso costruisco il corpo di Spider-Man Poi pensiamo a fare anche il resto Quindi pensiamo a dargli i colori Tutto quanto come è giusto che sia Quindi per ora Facciamo tipo una gamba così Questo qua è il suo busto Mi piace E ora gli facciamo tipo Le braccia che tirano le ragnatele Eh Quindi così E poi così Ora iniziamo a fare la forma della testa di Spider-Man Quindi la sua maschera Così più o meno Poi gli mettiamo i colori Ok, adesso ci servirà del blu Perché ovviamente Spider-Man lo sanno pure i... I topi I topi, ecco È rosso e blu Quindi un blu qua Uno qua, uno qua Ecco, guarda, la ragnatela Aggrappata qua Guarda che bella Guarda, al grattacielo Ok, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace Bisogna dargli un pochettino più di spessore Secondo me questa testa Così, guarda No, così Ovale No, così non è Spider-Man Bello fa Ecco, così Spider-Man Ok Così Non è bruttissimo, sai? Spero non mi abbia sentito Magari si offende, non lo so Ecco, così Ma così sembra una mosca Ma che cavolo Un ragnatela Sembra una mosca Vabbè Così? Aspetta, aspetta Aspetta Va, va, fagli tutte le grandezze che vuoi Bella faccia Fai come dici tu Non so, così Con gli occhiali È difficile fare gli occhi Quando c'è così poco spazio Così Così Così? Così non mi dispiace Sai cosa però? Sì, no, così Lo facciamo così? Oh mio Dio, sembra Sembra uno Spider-Man ciccione Bella faccia 8 secondi Ed ecco il nostro amicavole Spider-Man di quartiere Che si aggrappa al grattacielo E cerca di salvare Mary Jane Questo ha fatto un vero e proprio ragno Schiazzalo, schiazzalo, schiazzalo È fatto molto bene Bella faccia, non schiacciare i ragni Guarda quanti occhi c'ha Non li sopporti i ragni Mi fanno schiazzare Hai paura? Sei arachnofobico? Sì Sono tutti Wow Questo fa paura veramente Guarda gli ha fatto anche i denti Questo è epico Questo è epico, sì Glielo do, è epico Oh mio Dio, è epico Bravissimo Bello questo Guardalo da davanti Sì, ci ha fatto anche le teste dei ragni come occhi Oh cavolo Questo è carino Un ragnetto Questo è puccioso È puccioso questo qua Un ok Un good io gli do Dai ci sarà qualcuno che ha fatto Spider-Man oltre a noi Siamo stati gli unici scemi Gli unici, gli unici Mamma mia, guarda questo Questo ti mangia la notte e sei finito Questo sei finito Un altro Spider-Man Il nostro è un po' meglio, scusa Ora No, diciamolo Il nostro credo sia un pochettino meglio di questo, no? In effetti Giusto un pochetto Ma gli ha fatto le scarpe Guarda che belle queste Jordan che c'ha Bellissime Tu pensa, bella faccia Un ragno, quante scarpe deve comprare Diventa povero Deve comprare tante Non vorrei mai essere un ragno No, neanch'io Ma il nostro dov'è? Scusate, ci fate vedere il nostro Le mosche intrappolate nella ragnatela Geniale Good, bravo No, il ragno fa un po' Oh, ecco il nostro Spider-Man Spider-Man Salvo No, no, perché No, poop No, no, super poop No, no, tutti i super poop Ci hanno dato Bella faccia Ci hanno dato tutti i super poop Siamo arrivati ai ultimi Non ci posso credere Ciao Ciao, bella volta Ma come? Spider-Man è il simbolo dei ragni Basta, vado È l'icona È il supereroe ragno Basta, me ne vado Tutti i super poop Come è possibile? Ma bella faccia Faceva così tanto schifo la nostra costruzione Chiamate Superman Chiamatelo Ecco, mi sa che erano tutti dei fan di Superman e non di Spider-Man Ecco Secondo me erano degli haters di Spider-Man Sicuramente per quello che abbiamo fatto Sì Ragazzi, voi avreste dato un leggendario al nostro Spider-Man Secondo me sì Comunque lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video Dal vostro Kendall E da Bella Faccia il Pollo è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Ciao